La Fonica ha perso l'esordio a Vanzaghello contro la Mammi, Oleggio, Casale invece sconfitta piuttosto nettamente da Gallarate. Sbaglia la penetrazione Saladini, Balanzoni, decolla con la schiaccia, la carambola. Terrestro buono per il numero di cioccoli. E solo a Roli, che va vicino all'interazione di passi, la stoppata di Balanzoni. E solo a Roli. E la solita per in avanti. La gran palla di Antelli. Ad Antelli poi da Balanzoni. Sfortunato Antelli, ma dice un ribadio di Markovic. E altro viaggio in giro.